Come ti senti quando rientri a casa e ti vedi che possa subire sulla collina? E' straordinario, perché questo era il mio sogno, fino a quando lo pico. Desideravo tanto di dare una solissima collina con un pezzo di terra da coltivare, un ferire e tutto il resto. E noi ci abbiamo fatto proprio una testa di stazione, una camioneta di un rete. Ma sono, come si è più facile, sempre di dove ero destinata a stare. So che mi c'è, ho fatto tutte le sperimenti che ho fatto, ma è qui che volevo vivere. E che cosa mi vuole? O se non sono, se sono, mi viene voglia di dare un pezzicolo, mi chiedo, ho davvero tutto quello che ho sempre voluto e poi penso che sia, è proprio così, ci vediamo. E' un po' di più. 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 E' un po'. Grazie. 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 Grazie.